Darwin Kart Hire e vedere chi è andato più forte, chi ha fatto il giro migliore. Il posto è molto carino, c'è l'aria condizionata all'interno e offrono possibilità di acquistare delle bevande e passare una bellissima giornata all'insegna del divertimento guidando questi 2 kart. Per cui vi consiglio di provare.